Da campo di biliardo a campo di patate, le immagini parlano da sole. Per l'esordio in Serie D del Porto d'Ascoli, nella partita vinta alla Riviera delle Palme contro l'Amatese, il Prato ha mostrato tutti i suoi limiti, con buche, irregolarità e erba secca. A nulla sembra valsa, per ora, la ripiantumazione effettuata all'inizio di settembre. Eppure di questi tempi, un anno fa, l'innovativo impianto ibrido naturale sintetico, realizzato dalla Powergrass SRL, veniva invidiato persino dalle squadre di Serie A. Le vicende successive poi sono note. La San di Serafino non ha pagato quanto dovuto e i circa 400.000 euro rimanenti rischiano di pesare nelle casse del comune di San Benedetto. Intanto però, il bene pubblico rappresentato dal Prato è gravemente rovinato. Per quali motivi e quali sono i margini e gli eventuali costi aggiuntivi per tornare ai fasti si fa per dire di appena un anno fa, sarà tutto da scoprire.